Sarà un programma ricco quello proposto domenica 21 maggio in occasione della 26esima edizione della città da giocare, la manifestazione promossa dal comune di Fano che vede la città donare per un giorno le proprie strade ai bambini. Chiuso infatti al traffico il centro storico, Viale Gramsci e Viale Buozzi che vedranno il susseguirsi di attività laboratoriali e performance di scuole e di gruppi sportivi. Sì, come ogni anno torno a puntuale l'appuntamento con la città da giocare ma ogni anno con qualche elemento di novità in più, quest'anno oltre a Viale Gramsci sarà interessato anche via Garibaldi, Viale Buozzi, una parte di via Roma per cui aumenta l'estensione dell'area che sarà interessata dalle attività che coinvolgeranno decine e decine di associazioni culturali, sociali, sportive oltre ovviamente alle scuole. Ci aspettiamo anche quest'anno con la complicità del buon tempo, chiaramente una buona presenza di migliaia di bambini e bambini, famiglie, genitori come è stata negli ultimi due anni e quest'anno anche con una serie di ulteriori novità che sono collegate a quel rilancio del progetto Città delle Bambini e Bambini che in questi anni l'amministrazione comunale ha sviluppato grazie al laboratorio Città dei Bambini, al Cremi, agli uffici tutti a partire dai servizi educativi ma cercando anche di dare visibilità a quelle progettualità, penso in particolare a quella attivata nel quartiere di Sant'Orso che in qualche modo stanno cercando di portare fuori anche dagli appuntamenti, gli eventi, le manifestazioni, la città da giocare. Un progetto che chiama in causa dunque non solo la scuola e i servizi educativi ma un po' tutti i settori, mobilità, verde pubblico, interventi di riqualificazione con l'obiettivo di mettere i bambini nelle condizioni di riappropriarsi degli spazi pubblici con la consapevolezza di essere non solo cittadini del presente ma soprattutto del futuro.